Il nostro pianeta Expo Milano 2015 Nutrire il pianeta, energia per la vita Un evento unico che fonda le sue radici sulla necessità di uno sviluppo alimentare sostenibile per tutti Miliardi di persone e di bambini hanno ed avranno bisogno di cibo sicuro, adeguato e di qualità Expo Milano 2015 si propone come una piattaforma neutrale e globale Un aggregatore di idee, soluzioni e contributi Che coinvolge paesi, organizzazioni internazionali, istituzioni, società civile e aziende in un unico obiettivo comune Garantire un'alimentazione sana, sicura e sostenibile per la popolazione futura in continua crescita Expo Milano 2015 aprirà le porte dal 1 maggio al 31 ottobre Ma il suo viaggio è già iniziato e lascerà un'eredità sociale di iniziative che vivrà oltre il 2015 Più di 20 milioni di visitatori, un miliardo di presenze virtuali e oltre 130 paesi partecipanti Ad oggi più dell'80% della popolazione mondiale ha già aderito a questo evento globale Tutti porteranno esperienza e best practice per contribuire al prezioso risultato di un mondo sostenibile Expo Milano 2015 è un viaggio su più livelli L'area di oltre un milione di metri quadrati propone un nuovo modo di concepire l'esposizione universale Una World Avenue unisce tutti i paesi partecipanti, accompagnando i visitatori in realtà culturali molto diverse tra loro Le aree tematiche ospitano le iniziative più avveniristiche e creative Gli spazi espositivi, organizzati in cluster, raggruppano i paesi attorno a temi comuni Favorendo il dialogo e la cooperazione Importanti partner tecnologici rendono Expo Milano 2015 un esempio di smart city sostenibile Modello per tutte le future città mondiali Expo Milano 2015 offre vantaggi strategici e concrete prospettive di business per tutti i partner L'opportunità di networking e dialogo con i principali decision maker di 830 paesi Il lancio di nuovi prodotti e servizi in una vetrina mondiale per più di 20 milioni di visitatori L'opportunità di showcasing di tecnologie all'avanguardia e soluzioni innovative L'occasione di sviluppare alleanze strategiche e commerciali che dureranno ben oltre il 2015 I sei mesi di esposizione lasceranno un patrimonio di consapevolezza e un modello di business che saranno il DNA della nuova generazione imprenditoriale Solo le aziende capaci di integrare il loro business con alti principi e un costante impegno sociale avranno un futuro Il primo maggio 2015 segnerà l'inizio di un nuovo importante cambiamento mondiale A te resta la scelta Vuoi esserci nel futuro? Grazie a tutti Grazie a tutti